Si usa un DAE per correggere o riavviare il ritmo cardiaco di una persona. I DAE possono essere utilizzati sia per gli adulti che per i bambini. Come tutti i DAE, l'AED Plus di Zoll dispone di un pulsante di avvio, di comandi vocali, di un pulsante di emissione shock e di elettrodi. Ha anche un display che mostra contemporaneamente tutti i messaggi sonori e visivi, insieme alle vignette raffiguranti le diverse tappe da seguire durante un soccorso. Ha anche un elettrodo monopezzo per l'analisi del cuore e l'erogazione di uno shock. È un sensore RCP che consente di avere un feedback sulle compressioni toraciche, permettendo di eseguire la RCP alla velocità e alla profondità corretta. Insieme agli elettrodi troverete un pacchetto di accessori di soccorso, che contiene una maschera barriera per le respirazioni bocca a bocca, un paio di forbicine per tagliare gli indumenti, una salviettina umida per l'igiene, un rasoio per radere i peli del torace, un un fazzolettino di carta per asciugare la pelle della vittima e un paio di guanti latex free per proteggere le mani. Naturalmente, in un soccorso vero e proprio può essere necessario utilizzare tutti questi elementi. Non li utilizzeremo in questa sede ai fini dell'addestramento. Come utilizzare l'AED Plus quando il soccorritore è da solo? Seguite le istruzioni seguenti senza eseguirle. Posizionare la persona lontano da acqua e metallo. Se la vittima non riporta ferite nella parte superiore del corpo, utilizzate il coperchio come supporto per mantenere aperte le vie aeree. Posizionatelo tra le scapole. Posizionate l'AED Plus vicino alle spalle della persona, accendetelo e seguite le indicazioni. Mantenere la calma. Mi sente? Controllare capacità di risposta. Chiedere aiuto. Pronto, sono Cinzia Rossi. Mi trovo in corso Garibaldi 3. Il mio amico ha perso conoscenza. Per favore, mandate i soccorsi. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Verificate che il torace sia asciutto e radete il paziente se presenta folti peli. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Non toccare il paziente durante l'analisi del cuore. Se l'emissione dello shock è indicata, assicuratevi che nessuno tocchi il paziente. Lampeggiante. Dopo l'erogazione dello shock, iniziate immediatamente la RCP. Eseguite le compressioni spingendo verso il basso sul sensore RCP. Se le compressioni sono inferiori a 5 cm, sentirete un messaggio sonoro. La ED Plus è in grado di rilevare se non viene raggiunta la giusta profondità della RCP e vi avviserà ogni 15 secondi. Dopo il messaggio Maggiore compressione, se la profondità delle compressioni raggiunge i 5 cm, il DAE vi avviserà. Inoltre l'AED visualizzerà in tempo reale ogni compressione del torace sul metronomo. La linea superiore rappresenta 5 cm, mentre la linea inferiore rappresenta 6 cm. Per raggiungere la giusta profondità, ogni compressione deve raggiungere la linea superiore. Dopo aver effettuato 30 compressioni, eseguite due respirazioni bocca a bocca. Ripetete questo ciclo di 30 compressioni seguite da due respirazioni bocca a bocca fino a quando l'AED Plus vi indicherà di interrompere la RCP. I soccorritori senza formazione specifica per eseguire la respirazione devono effettuare le compressioni senza fermarsi. Effettuate 30 compressioni veloci e profonde. Eseguite due respirazioni. Dopo due minuti, quando avrete completato circa 5 cicli completi di 30 compressioni e 2 respirazioni, continuate a seguire le istruzioni del DAE. Se non iniziate la RCP subito dopo il comando, verrà emesso un segnale ogni 10 secondi, fino a quando inizierete. E se vi fermate per più di 10 secondi, sentirete un messaggio sonoro ogni 10 secondi, fino a quando non riprenderete la RCP. Continuare CPR. Come usare l'AED Plus in squadra. Diamo un'occhiata a una situazione in cui l'AED Plus viene usato da una squadra di soccorso. Supponiamo che al lavoro vediate una persona cadere per terra. Accertatevi che la persona abbia veramente perso conoscenza. Chiedete immediatamente a un collega di chiamare il 118 e prendere il DAE. Se la persona ha perso conoscenza e non respira normalmente, togliete gli indumenti dal torace. Mettete le mani tra i capezzoli al centro del torace e iniziare le compressioni toraciche. Continuate le compressioni e le respirazioni bocca a bocca sino all'arrivo del DAE. Quando il DAE arriva, assicuratevi che la persona non sia a contatto con l'acqua o metallo. Posizionate l'AED Plus vicino alle spalle della persona e accendetelo. Collegare immediatamente gli elettrodi al torace nudo del paziente. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Appena applicati gli elettrodi, l'AED Plus inizierà ad analizzare il ritmo del cuore. Non vi darà nessuna indicazione se non avete prima collegato gli elettrodi. Analisi in corso Non toccare il paziente mentre il DAE sta eseguendo l'analisi del cuore. Se lo shock è indicato, assicuratevi che nessuno tocchi il paziente. Dopo l'erogazione dello shock, posizionate le mani sul sensore RCP ed iniziate immediatamente la RCP. Per due minuti effettuate 30 compressioni ed eseguite due respirazioni bocca a bocca. Se le compressioni sono inferiori a 5 cm, sentirete un messaggio ogni 15 secondi sino a quando raggiungerete la giusta profondità. Quando la profondità delle compressioni sarà superiore a 5 cm, sentirete un nuovo messaggio. Compressioni adeguate Eseguite 5 cicli di 30 compressioni e 2 respirazioni. Continuate a seguire le indicazioni del DAE. Se il DAE vi dice analisi in corso, non toccate la persona. Se viene indicato lo shock, assicuratevi che nessuno tocchi la persona prima di premere il pulsante di erogazione di shock. Continuate a seguire le indicazioni ed effettuare la RCP sino all'arrivo dei soccorsi o sino a che la persona si risveglia. Un ultimo avvertimento. Utilizzate sempre elettrodi per adulti. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni o di peso inferiore ai 25 kg, usate gli elettrodi pediatrici. Se non sono disponibili, utilizzate gli elettrodi per adulti. Non utilizzate mai elettrodi pediatrici su un adulto. Ora esercitatevi ad usare il DAE in classe con il vostro istruttore. Per finire, quando arrivano i soccorsi, gli operatori vorranno probabilmente sapere due cose prima di intervenire. Da quanto tempo la vittima ha perso conoscenza? Quanti shock sono stati erogati alla vittima? L'AED Plus è in grado di rispondere ad entrambe le domande. Dal momento in cui l'AED Plus è stato acceso, il display tiene un conteggio degli shock erogati e del tempo trascorso in minuti e secondi. Comunicate immediatamente questa informazione agli operatori di primo soccorso e mostrate loro i dati che appaiono sul display. Grazie. Grazie a tutti.